Come va? Non si sente? Non si sente? Veniva, dai. Allora, la prossima canzone è dedicata a Samantha, che è stata una persona che ha aiutato moltissimo me e mia moglie a fare tante cose durante XFact. A lei e al suo ragazzo un grande bacio. Bravi! Abbiamo Alessandro Mizzardi al sax, ragazzi. A lei e al suo ragazzo un grande bacio. A lei e al suo ragazzo un grande bacio. Grazie. 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 Grazie.